Ragazzi, grazie, siamo arrivati veramente alla fine, vi salutiamo, vogliamo ringraziare tutti, Branca Leone, io in particolare, anzi, Cristian, Alex, Marco, Marco Cianchetta. Zona nera, grazie a tutti, ciao! Quali sono i confini tra il tuo bene e i miei ali? Tra i miei non sensi più e i tuoi consensi meno. Dov'è l'ingresso per entrare dentro te nella zona nera? Per la tua natura, in cui non vira la mia espressione, la linea oscura che ti ammora. La zona di te che non guarda mai fuori da sé che ti sta da me. Quali è il limite? Tra la mia normalità e ogni tua teoria di diversità. Nella zona nera, nella tua natura, in cui non vira la mia espressione, la linea oscura. che ti ammora, nella tua natura, in cui non vira la mia espressione, la linea oscura. che ti ammora di te che non guarda mai fuori da sé che ti sta da me. che ti ammora, nella tua natura, in cui non vira la mia espressione, la linea oscura. che ti ammora, nella tua natura, in cui non vira la mia espressione, la linea oscura. che ti ammora, nella tua natura, in cui non vira la mia espressione, la linea oscura. che ti ammora, nella tua natura, in cui non vira la mia espressione, la linea oscura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.